ben trovati al video di oggi ha come tema centrale il concetto del divide e timpera che non è solamente una frasetta in latino che si impara a scuola ma è ancora oggi il più importante metodo di dominio sui popoli molto brevemente divide e timpera significa suddivide la popolazione in due o più gruppi mette l'uno contro l'altro fa in modo che si distragano su determinati temi quelli su cui si focalizzano e si cristallizzano le opposizioni di tipo duale in modo che chi governa il governo in carica oppure chi decide da dietro le quinte abbia vita facile sui veri temi centrali quelli per tale potere più importante che vengono nel mentre mandati avanti in breve è un'arma il divide e timpera è un'arma uno strumento di distrazione delle masse e non è una cosa vecchia dei tempi romani ma anzi è più attuale che mai come scrivo nel post che pubblicato nei miei canali social che adesso andiamo a leggere poi commentare conosciamo tutti l'antico adagio divide e timpera il quale non è solo un detto latino che si impara a scuola ma è un modus agenda e ancora in uso presso certi poteri quei poteri oscuri che lavorano contro l'evoluzione e il benessere dell'umanità i tempi recenti hanno visto larga applicazione di tale principio la popolazione è stata e viene tuttora distratta e divisa in due gruppi con l'utilizzo di etichette di menzoni e propagandistiche affinché non si accorga dei reali obiettivi di chi prende le decisioni dietro le quinte a tal proposito leggiamo una citazione assai rivelatrice di dion fortune tratta da la battaglia magica d'inghilterra evidenziando due elementi il primo il concetto di battaglia magica ossia energetica ossia spirituale il secondo è che la battaglia di allora veniva condotta contro le forze del nazismo entrambi tali elementi sono presenti anche oggi seppur sotto mentite spoglie il male si appoggia sempre sulla separatezza il bene sull'unità quando il bene costruisce un impero lo regge per mezzo dell'integrazione portando la benedizione della civiltà alle razze sottosviluppate quando il male a costruirlo esso è fondato sulla sottomissione lo sfruttamento dei popoli conquistati fine citazione ecco la chiave che ci permette di aprire la porta della verità verso cosa puntano i vari governi ed enti sovranazionali che ormai ne hanno preso il posto controllando di fatto cancellando di fatto la sovranità popolare verso l'unità e la fratellanza o verso il conflitto la divisione verso la libertà o verso la sottomissione verso l'educazione la conoscenza o verso l'obbedienza cieca l'ignoranza il bene la consapevolezza agisce per portare in alto chi sta in basso il male l'inconsapevolezza agisce per spingere in basso chi cerca di salire in alto ecco i concetti con cui potete discernere i vari intenti che stanno dietro qualsivoglia agenda o intervento politico applicateli per esempio all'immigrazione incontrollata all'esportazione della democrazia alla creazione delle guerre alle politiche discriminatori di stampa razziale alla censura e la propaganda mediatica al campo dell'alimentazione della salute al revisionismo storico un loro fiore all'occhiello propaganda rivolta non al presente ma al passato qua terminava il posto piuttosto denso e concettoso ossia pieno di concetti come abbiamo visto il punto di partenza iniziale lo abbiamo accennato in apertura di video ossia il concetto del divide timpera lo strumento è molto semplice attraverso la comunicazione e l'informazione che al tempo di oggi oscilla tra disinformazione e propaganda e in mezzo c'è la censura lo avete visto tutti vale nei social ma vale anche nelle televisioni di stato e anche private che appartengono a certi personaggi cioè certe famiglie cioè certi gruppi cioè certi interessi che portano avanti una certa agenda infatti cantano in coro praticamente attraverso la l'informazione la comunicazione controllata vengono passati dei messaggi si stimola la contrapposizione duale della popolazione per cui sia a favore di una cosa contro un'altra sia il filo tizio filo caio e questo vale per popoli religioni concetti di vario tipo sanitario per esempio culturale o religioso o quello che vogliamo noi mentre la popolazione si scanna tra virgolette cioè è suddivisa ed è polarizzata rispetto a una questione di trascurabile importanza o magari neanche tanto trascurabile ma comunque mentre l'attenzione pubblica è focalizzata in un certo modo focalizzata e polarizzata in un certo modo chi deve portare avanti una certa agenda può farlo praticamente in silenzio anche perché in media l'informazione è connivente a quell'agenda e non espone mai i temi centrali o se gli espone gli espone con un discorso di tipo pensiero unico quando il popolo viene diviso in due tre fazioni che se le danno di santa ragione l'una rispetto all'altra è più facile governarlo ossia soggiogarlo questo è il divide tempo il sistema non è vecchio ma è ancora attuale come dicevo prima ed è applicato praticamente sempre le guerre e come si vogliono dipingere le guerre anche il linguaggio il linguaggio è praticamente orgogliano cioè siamo entrati in un'epoca in cui davvero orgoglio risulta praticamente arretrato rispetto ai tempi attuali anche i termini che vengono utilizzati per esempio ci avete mai fatto caso presumo di sì che diciamo le nazioni nemiche che qualcuno ha deciso essere nemiche dell'occidente dei valori occidentali che poi valori non sono più valori sono disvalori i valori occidentali tradizionali in realtà sono quelli del cristianesimo del cavalierato della nobiltà di spirito dell'etica di rispetto per le tradizioni per l'appunto così sono i valori tipici dell'occidente li stanno in realtà cancellando quindi quando parlano dei valori occidentali non parlano dei valori dell'occidente intesi come popolo inteso come popolo parlano di ciò che loro vogliono introdurre come propaganda sia a livello culturale indottrinamento ma anche a livello diciamo politico di status quo politico per cui a livello politico i paesi che non si allineano con la loro propaganda vengono chiamati i regimi i regimi di qua i regimi di là quando in realtà attualmente il più grande regime è proprio quello occidentale la nato l'unione europea noi attualmente stiamo vivendo in un regime sotto mentite spoglie ma comunque un regime c'è la censura per esempio perché il governo italiano ma anche gli altri governi europei non hanno mosso un dito contro la censura la manipolazione la discriminazione dei social non hanno mosso un dito con ciò hanno certificato di essere d'accordo un governo veramente nazionale espressione della sovranità popolare nazionale cosa avrebbe fatto avrebbe fatto in modo che un social volendo operare in italia fosse soggetto alle leggi della leggi italiane quindi non si può eliminare la libertà di parola facebook per esempio ma anche tutti gli altri social twitter eccetera avrebbe dovuto essere multato per ogni volta che ha cancellato un post diminuito la visibilità eliminato un gruppo un account un canale perché i governi non hanno operato in questo senso perché sono conniventi con questa gente altrimenti avrebbero fatto qualcosa non hanno fatto qualcosa cosa vuol dire il fatto che non abbiano fatto niente vuol dire che sono d'accordo sul fatto che il popolo italiano non abbia libertà di parola e di pensiero questo vuol dire non ci sono spiegazioni alternative e non è più un discorso di facebook oppure twitter oppure instagram oppure anche il canale di video tipo youtube o altro è un è una proprietà privata per cui il proprietario fa quello che vuole no non è più questo discorso perché nel momento in cui censura o cancella il social diventa una specie di editore dovrebbe essere soggetto a tassi di un certo tipo e comunque nessuno può dovrebbe poter andare contro i principi costituzionali in realtà abbiamo visto cosa ne fanno dei principi costituzionali quando va fa loro comodo negli ultimi due o tre anni la costituzione l'hanno resa carta straccia e tutto è stato possibile perché i poteri in questione sono erano e sono conniventi mentre il popolo si scanna su pro questo oppure no quello io sono pro questo tu sei no quello certi provvedimenti sono andati avanti certi agende sono andati avanti e la guerra come dice la come dice un fortune è anche soprattutto spirituale è a livello sottile che si stanno combattendo le cose il mondo fenomenico e poi un riflesso chi studia leggi spirituali questo lo sa bene ma ormai ci sono accorti di questo fenomeno ossia che c'è in corso una specie di guerra sottile anche persone che non hanno studiato esoterismo e leggi esistenziali ai a intuito magari la sensazione un'altra cosa interessante che dice di un fortune nell'articolo è suddividere bene male secondo il loro la loro prassi loro modo di agire tanto con bene si intendono le forze della consapevolezza e con male le forze dell'inconsapevolezza le forze dell'inconsapevolezza bene male in senso assoluto non esistono perché fa tutto parte del disegno cosmico non esiste un male assoluto ciò che noi definiamo male è forza mal diretta cioè forza diretta verso il dolore la sofferenza il dramma il sopruso l'inconsapevolezza che poi sono gli argomenti di cui abbiamo parlato poc'anzi ma non esiste un male di per se stesso comunque quando noi parliamo di bene parliamo di consapevolezza e quindi delle forze che agiscono per portare in alto e che agiscono per la libertà per la bellezza per l'evoluzione individuale quando parliamo di male nella spiritualità nella letteratura di settore parliamo di inconsapevolezza cioè delle forze che spingono verso il basso verso l'addormentamento verso la sottomissione verso l'ignoranza spirituale e spesso anche materiale se prendete questo concetto e lo applicate ai vari personaggi gruppi autori partiti governi entità sovranazionali e alle varie politiche l'immigrazione la comunicazione l'economia le leggi per esempio ma anche l'alimentazione tutto quanto la medicina la sanità avrete molto facilmente la conclusione cioè avrete concluso chi e cosa è bene cioè spinge verso la consapevolezza chi e cosa è male rispetto all'umanità rispetto all'evoluzione umana perché spinge verso l'inconsapevolezza praticamente questo è un post partue concettuale che potete applicare a qualunque cosa il bene unisce rende fratelli rende le persone più libere e consapevoli il male invece divide divide timpera l'origine dell'articolo separa distrugge toglie lavora per l'inconsapevolezza bene grazie per l'attenzione il video termina qua vi lascio vi rimando ai miei canali la cosa più importante è la newsletter così andate direttamente a iscrivervi ai al canale i canali dell'autore io in questo caso ho altri autori che apprezzate eliminando l'influenza che spesso nei tempi contemporanei malefica rispetto a come abbiamo utilizzato le parole bene e male è il caso di dirlo ed è e va anche detto cioè non bisogna nascondersi dietro le cose dei social e delle comunicazioni intermedie andate a scrivere direttamente nei canali degli autori che apprezzate e risolvete la questione fermo restando che i canali i social ora ci sono sono importanti quindi vanno utilizzati e presidiati per quanto si può per esempio io ho pagine facebook analizzate le cose vanno così così il tutto orientano il discorso che abbiamo appena fatto però finché ci sono si utilizzano come intermediari invitando le persone ad andare direttamente alla fonte in questo caso se andate nei miei siti per esempio su bellezza, amore e gioia trovate il form di iscrizione in cui potete inserire la vostra mail per diventare iscritti alla mia newsletter generale per essere aggiornati con il mio lavoro dopo che inserite la vostra mail e cliccate riceverete un messaggio nella vostra casella postale su cui dovete confermare l'iscrizione cliccando sul link che avrete ricevuto ancora grazie per l'attenzione e buone cose per tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti